Benvenute e benvenuti alla Festa di Luce, questa seconda edizione è Dreamtime, il tempo del sogno, il tempo di sognare. Luce sa parlare a moltissime persone che spesso non trovano abbastanza voce sui media tradizionali. È importante declinarci al femminile, è importante che ti venga dato valore alla nostra posizione, perché una presidentessa vale quanto un presidente, una dottoressa vale quanto un dottore. Libertà come si dice non è un pasto gratis, ma proprio nei momenti più bui deve uscire l'umanità e la forza dell'umanità è nei momenti più bui quella di provare a accendere una luce. C'è un tabù così grande, assicurazioni sulla salute che coprono qualunque cosa che possa succedere tranne la psichiatria. E che è la psichiatria? Grazie mille, grazie mille, grazie mille.